dipende quanta quanta lavori c'è ma pure le voci cazzo c'è un microfono c'è un bel sorriso un pulminatore imparico che parte a pancio tanto manca poco guarda un po' è un bel sorriso e di marcellona si senti con il padere marcellona che a buonmente ma è una bella salata di video di post questo è un bel sorriso e un bel sorriso di BTR di BCC e Grazie.